La Demeter, noleggiata dalla Romania a Londra, trasporta un carico privato di casse dal contenuto ignoto. Vi mostro la nave. Questo qui è Huckleberry. Picchiamo sul legno per dare il tutto bene. Qualcosa ha fatto a pezzi gli animali. Questo sembra un morso. C'è un maligno a bordo. Un maligno potente. La notte beve il nostro sangue. Lui è qui. Noi lo chiamiamo Dracula. Arriva! L'ammazzo quella cosa maledetta. Il demonio è reale. Che Dio abbia pietà di tutti noi. Che Dio abbia pietà di tutti noi.